Ciao a tutti ragazzi, buona domenica, come state? Spero tutto bene. Io sto registrando nella tarda serata di sabato, quindi non azzarderò oggi probabili informazioni proprio perché non ho informazioni a riguardo, non ci sono aggiornamenti. Allegri ci ha detto che dovrà valutare alcune condizioni dei giocatori e dei calciatori nella mattinata e quindi non avrebbe senso ipotizzare qualcosa. In caso di aggiornamenti commenterò questo video, andrò a fissare il commento in alto per cercare di capire quali saranno i giocatori a scendere in campo, ma bene o male abbiamo fatto un buon ripassino dei convocati, dei convocabili, dei disponibili, dei giocatori squalificati, dei giocatori infortunati nel video di ieri, nella conferenza stampa che abbiamo analizzato insieme di Massimiliano Allegri. Quindi vi rimando a quel video perché c'è poco da impegnarsi, da inventarsi. Allegri ha detto che sarà convocato compagnon dal Lander e per il resto ci sono dei giocatori che sappiamo già saranno fuori, dei giocatori che invece dovranno stringere i denti e fare gli straordinari anche in vista della partita in Germania contro il Friburgo. Ma oggi vorrei cercare insieme a voi di analizzare quelli che sono un po' i dati di Juventus e Sampdoria e quindi cercare di capire bene o male che tipo di partita potrebbe venire fuori. Intanto cerchiamo di cambiare schermata, questi sono gli incontri precedenti delle squadre, lo 0-0 del girone d'andata a Genova, ricorderete una bruttissima prestazione da parte della Juventus che non aveva convinto per niente. Lo scorso anno a Genova abbiamo vinto per 3-1, in casa abbiamo vinto per 4-1 e poi c'è la stagione di Pirlo in cui vinciamo per 3-2 e 0-2 invece a Genova. Nelle ultime 5 partite, invece no, non era la stagione di Pirlo probabilmente, ah no, ok, era la Coppa Italia e l'anno scorso, infatti nella stagione di Pirlo avevano vinto 3-0. I trend di squadra, le ultime 4, nelle ultime 5 il Juventus ne ha vinte 4 e la Sampdoria invece ha fatto 2 sconfitte e 3 pareggi, detta così non sembra niente di che, ma per quello che è il trend stagionale della Sampdoria in realtà non è malissimo perché è una squadra che ha collezionato soltanto 2 vittorie e 6 pareggi, 12 punti, ultime in classifica in Serie A, soltanto 11 gol segnati, quindi stiamo parlando di una squadra con dei problemi, non è utile girarci intorno, però di quei 6 pareggi uno è arrivato con la Juventus per 0-0, lo stiamo vedendo qui in grafica, uno è arrivato con l'Inter per 0-0. Ci sono delle statistiche interessanti per quanto riguarda la Sampdoria e il confronto tra Sampdoria e Juventus, quindi direi di andare a vedere un attimino quello che è il match report, questi sono i risultati stagionali, infatti già qua abbiamo un dato molto importante perché la Sampdoria in 25 partite giocate in Serie A ha segnato soltanto 11 gol, come dicevamo ne ha subiti 39, quindi sicuramente dal punto di vista difensivo c'è da rivedere qualcosa, è l'ultima squadra in Serie A, proprio ora dovrà iniziare a cercare di guadagnare dei punti salveste importanti, anche perché anche ieri lo spezia con l'Inter poi ha fatto un risultato pesante, anche Stankovic in conferenza stampa ha parlato di questa cosa qui, se si vuole provare a salvarsi bisogna iniziare a non guardare più in faccia all'avversario, a fare dei punti, macinare dei punti. La cosa che fa paura, tra virgolette, e che deve un attimo anche mettere sul chi va là la Juventus, cercare di alzare il grado di concentrazione, è che questi 11 gol fatti, che sono veramente pochi in 25 giornate giocate, 8 gol sono stati fatti fuori casa dalla Sampdoria in 12 giornate, il che significa che la Sampdoria fuori dalle Muramiche è sicuramente una squadra più temibile rispetto a Marassi, dove comunque, ripeto, con noi all'andata ha strappato un pareggio, ecco io direi che abbiamo già lasciato un punticino ai genovesi, direi di cercare di collezionare il punteggio pieno, perché sennò diventa anche un po' problematica la situazione. Qua ci sono i dettagli degli ultimi incontri, infatti è questa qua la stagione di Pirlo, di cui parlavo prima, ricordavo il 3-0 in casa all'esordio di Pirlo, e poi al ritorno abbiamo vinto 2-0 a Marassi, però attenzione che appunto la Sampdoria in questa stagione, quando ancora c'era Giampaolo sulla panchina blu cerchiata, 0-0 e uno di quei 12 punti se l'ha portato a casa proprio contro di noi. Attenzione, stiamo attenti, non diamo niente per scontato. Le Rose delle squadre, con tutti i dettagli dei giocatori che hanno giocato di più e segnato di più, cerchiamo di guardare i gol in Serie A di questa stagione, il capo canoniere della Samp è Manolo Gabbiadini con 4 gol, c'è l'Amers che ha fatto una rete tra gli attaccanti, 2 gol Sabiri e 2 gol Durycic, tra l'altro domani la Sampdoria avrà delle defezioni, infatti l'Amers non dovrebbe essere disponibile, lo stesso Udero che è il titolare non sarà disponibile, devono anche valutare altri giocatori, insomma la Sampdoria domani sicuramente non si presenta a Torino nelle migliori condizioni possibili, ma anche la Juve ha dei grandi assenti. Per quanto riguarda il rendimento decente, dicevamo prima la Juve comunque nelle ultime 5 ne ha vinte 4, ha perso contro la Roma l'ultima partita, lo sappiamo, invece la Sampdoria ha comunque collezionato un paio di pareggi, tra l'altro quello di Monza al 95esimo con Pessina che va a fare gol su rigore, ha praticamente tempo scaduto nel secondo tempo con la Samp che va a mangiarsi la terza vittoria stagionale. Comunque da segnalare lo 0-0 contro l'Inter, risultato importante e che deve anche un attimo metterci in guardia, perché significa che comunque la Sampdoria non ha solamente fatto quel risultato 0-0 con la Juve all'andata, ma rischia di mettere i bastoni tra le ruote anche la Juve al ritorno. Oggi la Lega diceva che comunque hanno fatto 1-0-0 con la Salernitana. Quando hanno perso con Lazio e Monza, hanno perso sempre negli ultimi minuti, è vero, probabilmente il cambio in panchina con Stankovic deve aver fatto bene alla Sampdoria, che non è risollevata, non è cambiata, ma rimane una squadra probabilmente rognosa da affrontare, a maggior ragione in una situazione in cui la Juve ha dei giocatori fuori e io aggiungo a maggior ragione in una situazione in cui la Juventus potrebbe rischiare di fare il ragionamento, di guardare a quello che accade giovedì. Quindi non sottolutiamo la Sampdoria, ovviamente rispettiamola, dall'altra parte rendiamoci conto che siamo la Juventus e giochiamo in casa contro l'ultima in classifica e sono due cose che devono andare di pari passo. La Juventus gol fatti 1-6 a partita contro il 0-44 della Samp, 0-8 gol subiti dalla Juve contro il 1-56 della Samp, bene o male la Samp prende quasi due gol a partita, la Juve fa quasi due gol a partita, viene a dire che la Juventus potrebbe vincere per due gol a 0 o per due gol a 1. Se devo guardare semplicemente questi dati, quello che mi viene a dire è il seguente, o 2-0 per la Juve o 2-1 per la Juve. Però attenzione che il calcio non si basa solo su questi numeri, la Juve tira più in porta della Samp, tira nel totale più della Samp e fa più assist della Samp decisamente di più perché la Samp è una squadra che fa veramente pochi assist, che fa più passaggi, più precisione passaggi, più passaggi sulla tre quarti. La Samp però fa più falli, quindi tendiamoci una squadra aggressiva, fallosa. La Juve dribbla di più, ma non tanto di più, quindi da questo punto di vista dovrebbe essere una partita abbastanza equilibrata, così come le due squadre tendono ad avere pressa poco lo stesso baricentro. La Juve fa più passaggi chiave, la Samp va più spesso in fuorigioco, ma siamo lì, la Juventus va più da corner, crossa di più, è più successo sui cross, e per quanto riguarda il resto siamo lì, due squadre che comunque nella propria metà campo passano un po' più di tempo rispetto alla metà campo avversaria, quindi sarà una partita magari anche bloccata intorno al centrocampo con la Juve che proverà a tenere più palla, andare più avanti, però poi non attendiamoci chissà che cosa, perché, ripeto, secondo me quella di domani potrebbe essere una partita da 2-0. Attenzione che guardando i dati atletici abbiamo la sensazione che comunque la Samp non sia una squadra che sta male dal punto di vista fisico, tutt'altro, è una squadra che corre, e corre quasi come la Juve, corre meno probabilmente in sprint a una velocità minore in alcuni effettivi, però sul lungo è una squadra che non ha paura a faticare o avere il fiatone, perché è una squadra che corre abbastanza. Questa è la classifica di Serie A, ovviamente la Juventus avrebbe 15 punti in più, poi vedremo come andrà a devolversi, anche perché, in teoria, la Juventus avrebbe ricevuto questa famosa carta del Covid-Cons, quindi vediamo che cosa succederà. La Juventus sul campo sicuramente avrebbe 50 punti, la Samp è una squadra che ha una difficoltà a segnare quasi vergognosa, quasi vergognosa, teoria facendo un gol dico che sei al sicuro, ma quasi. Poi è ovvio che l'episodio e tutto può succedere, il calcio d'angolo, la deviazione, il rigore, l'espulsione, l'inforzo, può succedere tutto, quindi per essere sicuri dovresti farne almeno due, almeno due. Ti rimporta, la Samp è penultima in questa classifica, soltanto il Lecce tira meno dalla Samp, quindi è una squadra che tira decisamente poco. Per quanto riguarda gli assist, è ultima con otto assist, la Juventus è terza con 32. Per quanto riguarda i passaggi riusciti, invece la Sampdoria non è messa così male, perché ha il sedicesimo posto, quindi è comunque una squadra che il pallone lo gioca, cerca di fare la sua partita con i suoi limiti tecnici, ovviamente, poi ha difficoltà nel finalizzare. Passaggi chiave fa molta fatica, per quanto riguarda i recuperi, Juventus e Samp sono praticamente allo stesso posto, sedicesimo e diciassettesimo posto, quindi dal punto di vista fisico, dal punto di vista di quello che saranno i contrasti all'interno della gara, aspettiamoci comunque due squadre molto molto simili e questa sarà una statistica interessante. Parate, la Sampdoria comunque ha un portiere che risponde presente, ripeto, domani non dovrebbe essere presente, non sarà presente, la Sampdoria e la Juventus sono due squadre che non corrono proprio uguale, ma come vi dicevo prima, la Sampdoria è una squadra che comunque il suo lo fa, sulla tre quarti invece Juventus e Samp hanno delle difficoltà, perché la Juventus è quella che a un certo punto stacca la classifica, Sampdoria, Spezia, Impoli, Salernitana, Lecce, Roma, Cremone e Zellas, sono nel filone più basso dei passaggi sulla tre quarti, poi la Juve è un po' più vicina a Milan, Bologna, Sassuolo, così, però attenzione che sono le due squadre che vanno un pochino ad avvicinarsi, in questa statistica, la Juve ha comunque tante difficoltà sulla tre quarti, la Samp fa il suo onestamente, quindi è una squadra che la partita la fa, la prestazione la fa, poi ha difficoltà nel finalizzare, nei dribbling abbiamo già detto, sono due squadre abbastanza simili, nei rigori a favore, quattro la Juventus, a favore due la Samp, contro due la Juve, sette la Samp, quindi la Samp è una squadra che, come vedavamo prima, picchia anche, è una squadra fallosa, magari picchia all'interno dell'area di rigore, e infatti ha subito sette rigori contro, la Salernitana è la prima in questa speciale classifica con dieci, la Samp è seconda, pare al Bologna con sette, per quanto riguarda i gol della panchina, soltanto tre per la Juve, due per la Samp, quindi dal punto di vista della panchina, siamo abbastanza vicini, in questa statistica, e questo è il turno successivo, quello che sarà con la Samp Doria, che ospiterà l'Ellas Verona, in una partita che può voler dire veramente tanto, dal punto di vista della salvezza, ed è ovvio che i punti salvezza non dovranno arrivare dalla Juventus, ma come dicevo prima, in questo momento qui, per la Samp, tutte le squadre hanno lo stesso obiettivo, fare punti, e l'ultima in classifica deve fare punti, a prescindere dall'avversario, deve provarci, a maggior ragione se poi si gioca uno scontro salvezza così importante, ed è necessario cercare di avere un po' di fiducia, in più nei propri mezzi, perché fare risultato un punto, che muove la classifica a Torino contro la Juventus, per la Samp Doria sarebbe tanta roba, significerebbe non aver perso nell'andata nel ritorno contro la Juventus, quindi la seconda squadra in classifica in Serie A per punti effettuati, potrebbe essere una trappola, perché loro da perdere hanno niente, hanno soltanto da guadagnarci, noi invece da perdere abbiamo decisamente di più, anche in prospettiva a Friburgo, quindi non sottovalutiamo la Samp Doria, sappiamo che se sono ultimi in campionato un motivo c'è, ma abbiamo visto che in tante statistiche sono abbastanza simili a noi, e a maggior ragione oggi, senza Di Maria, dovremo cercare di capire che la nostra fase offensiva sarà sicuramente da rivedere.